Bene, a questo punto penso che possiamo iniziare. Io ringrazio ancora tutti, ringrazio, approfitto per ringraziare anche il dottor Putoto, che è responsabile della programmazione del QAM Medici per l'Africa, che lavora, mi pare, in sette paesi, insalmente, dell'Africa. Ugualmente, insalmente, un grande interesse c'è stato da parte di un'altra ONG, l'Emergency. E ringrazio anche l'Onorevole Garofani, insomma, il Presidente della Commissione della Difesa, insalmente, per la sua partecipazione a questo incontro. Bene, io penso che a questo punto possiamo iniziare le relazioni. La prima relazione, come da programma, è del Professor Stefano Vella, attualmente direttore del Centro per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità e Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. È uno dei più noti ricercatori e scienziati italiani, i suoi lavori nel campo, nel settore dell'ADS, sono un punto di riferimento in campo internazionale. Fa parte di commissioni e Presidente di numerose commissioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'ONU. Quindi è un grande piacere che noi lo abbiamo qui, io lo ringrazio, perché ha trovato, appunto, anche il tempo, nella sua agenda particolarmente complessa e complicata, uno spazio di venire qui. E come sentirete, insalmente, la storia dell'AIDS è una storia particolare, che ha determinato, anche con la creazione di nuovi farmaci, che non solo sono serviti per la cura per l'AIDS, ma hanno dato anche l'inizio alla ricerca per la cura di anche altre malattie. Grazie ancora di essere intervenuto. Io ti ringrazio, Mario, perché, a parte che per me è un grandissimo onore essere qua, perché io sono nato qua, io sono della Sapienza, ci sono stati vent'anni dentro queste mura, io lavoravo con Giunchi, anzi, mi sono laureato con il professor Giunchi, molti di voi non erano neanche nati, ma questo è per dirvi la mia età, e poi sono finito all'Istituto Superiore di Sanità. E' vero. Che si vede pure la slide, la piazziamo, così. E oggi, appunto, parlerò un pochetto di AIDS, un pochino, perché è vero che io me ne sono occupato e continuo a occuparmene tantissimo, ma parlo di questo concetto della salute globale, perché, per fortuna, quando è arrivato il professor Ricciardi in istituto, io ci ho lavorato da anni nella salute globale, cioè qui in Putoto, ci conosciamo da millenni, in Africa, e prima ero direttore del Dipartimento del Farmaco, per questo poi non c'è tutto mandato a questa fregatura della Presidenza dell'AIFA, scusate, dico, fregatura scherzando, dico, ma non richiesta, diciamo, però la faccio. Però il mio lavoro è lì anche, però il mio lavoro è all'Istituto Superiore di Sanità, dove adesso vivo, e dove finalmente, grazie anche a Ricciardi che è arrivato, abbiamo creato il Centro per la Salute Globale. Allora qualcuno dice, ma che è questa salute globale? Perché qualcuno dice, ma che è questa parola? E dico, beh, guarda, adesso cerco di spiegarvi che cos'è la salute globale. La salute globale è una cosa che poi vi spiego, ma intanto vi spiego che cosa non è la salute globale. È il fatto che ci sono circa 20 milioni di persone ogni anno che muoiono prematuramente, perché non è che uno vuole vivere per sempre, diciamo, però non vuole morire prematuramente. Questo per malattie che sono per la maggior parte prevenibili e curabili. Questo non è la salute globale, è questa diseguaglianza di cui parlava la professoressa, che tra l'altro, io nel discorso dei vaccini, non so se è andato via, no, se è ancora lì, io ho cercato di scrivere qualche cosa, un giorno ho scritto un articolo per la Repubblica su vaccini e Costituzione, perché con una mia amica costituzionalista, ho cercato di mettere insieme i tre articoli della Costituzione che riguardavano il problema dei bambini e anche dal diritto alla salute. Effettivamente mette ancora i birri, a me ancora mi vengono i birri quando leggo quei 12 pezzi iniziali, devo dire la verità. E soprattutto quello della salute, il diritto alla salute è bellissimo, no, che hanno messo i nostri... che lo Stato provvede a dare cure gratuite agli indigenti. Cioè è una cosa che mette i brividi già a quel tempo pensare al sistema universale, al diritto... veramente ci sono delle cose bellissime. Comunque, ecco, questo è... e queste diseguaglianze non riguardano soltanto le malattie infettive, ecco, questo è molto importante, riguardano tutte le malattie. Perché uno pensa sempre alla salute globale, pensa sempre alla malaria, all'AIDS, alla tubercolosi... No, non è solo quello. Ci sono delle diseguaglianze terribili anche. E poi, l'ultima cosa che vi faccio vedere poi, non riguarda soltanto i paesi... chiamiamolo del sud del mondo, che non si usa più questo termine, ma insomma dei paesi... le diseguaglianze ce le abbiamo qua dentro, dentro casa, voglio dire. Ecco, questa non è la salute globale. Queste sono, vedete, l'aspettativa di vita in buona salute. Vedete, non ci siamo, diciamo, le differenze sono terribili. E poi, è questa la mortalità materna. Ecco, per esempio, vedete... sapete che in Africa una donna su 16 muore di parto durante la vita. E beh, è una cosa che qui, quando succede una cosa del genere, è un scandalo, giustamente. Ma lì è normale morire di parto. E adesso l'unica cosa che siamo riusciti a fare... Io lavoro in Tigra, in Etiopia. Abbiamo messo insieme proprio nelle zone rurali, perché lì il governo ha funzionato, devo dire la verità. Infatti, non per caso Tedros è diventato il direttore generale dell'OMS, perché lui è stato un bravissimo ministro della salute. Beh, lì chi ha salvato, chi salva questa situazione sono le ambulanze. Io infatti, quando faccio le lezioni, i ragazzi dicono qual è la più grande scoperta della medicina? Beh, certo sì, il vaccino, il vaiolo... E poi l'ambulanza, perché l'ambulanza è una grandissima... Lì c'hanno la motorità, c'hanno le api, vanno con le apette e portano i parti difficili al centro di salute. Ecco, poi parliamo della prevalenza dell'AIDS, ma ne parliamo dopo. Ecco, questo è il discorso delle malattie croniche, non trasmissibili. Cioè, stiamo parlando del diabete, di ipertensione... Dice, ma scusa, ma come... Vedete, lì è dove si muore di più di malattie croniche. Ma non c'è uno di meno? Qualcuno mi dica, scusa, in Africa non ce l'hanno. A parte che saranno crescendo da morire. E lo sai bene, perché adesso stiamo cominciando a fare i progetti su... Ma ecco la differenza, è che lì si muore. Qui ne abbiamo di più, lì di meno, ma lì si muore. Io infatti quando vado in Africa con il mio gruppetto, ogni tanto, qualcuno... Io dico sempre, se mi pia un colpo qua, in mezzo a... Qui se mi pia un infarto, forse qua mi portate, dove è? Qui al padiglione mi stappano, diciamo. Sì, c'è lì al centro di... E lì, no, lì si è fatto, diciamo. Quindi questa è la differenza, diciamo, perché si muore. E vabbè, io questo, tra l'altro, questo concetto, questo è un mio vecchio articolo del 2000. E' tanto che cerco di spiegare che il problema della salute sono le diseguaglianze. E non c'è solo il sud del mondo, dicevo, questa è l'Italia, questa è la qualità dei servizi sanitari. E questa è una cosa carina. Voi se conoscete Giuseppe Costa, Geppo Costa, che è un grande ricercatore, un epidemiologo di Torino, che ha fatto un'indagine fantastica sulla salute dei torinesi negli ultimi 30 anni, ha seguito milioni di persone nel tempo, e questo è il famoso trenino. Qui c'è un tram che va dalle zone povere alle zone più ricche. E lui ha misurato l'aspettativa di vita. E vedete che, andando da destra a sinistra, ecco, l'aspettativa di vita cambia di cinque anni. Queste sono le diseguaglianze. Perché? Perché lì sono più poveri, hanno meno accesso alle cure, hanno una vita, attenzione, ci sono dei determinanti sociali delle malattie, che non sono soltanto genetici, ma se sei povero, sicuramente fumi di più, sicuramente bevi di più, sicuramente non puoi andare a fare jogging sotto il parchetto tuo di casa qui. Capito? Quindi ci sono delle situazioni che fanno sì che i più poveri, i più indigenti, poi stanno pure male. Mangiano male, sicuramente, e adesso noi abbiamo visto questo aspetto sulle nuove povertà. Perché le nuove povertà, che avete visto i dati dell'Ista, che sono terribili, dicono che effettivamente abbiamo una quantità di persone che stanno sotto la soglia di povertà. Ai tempi miei, quando ero ragazzino, beh, ci facevamo la fettina, si mangiava due volte a settimana, c'era la fettina di vitella, e adesso si fa al fast food. Il bambino si fa... perché i soldi sono calati, la spesa costa di più. Vabbè, non ve la voglio fare troppo lunga, però, insomma, la global health, la salute globale, è la salute della popolazione a livello, diciamo, globale, che non rispetta i confini. Anche perché le malattie, adesso parliamo di quelle, diciamo, virali, che è un po' banale dire che non hanno il passaporto, che quelle che non è che hanno la spettaccia della frontiera, quindi quelle girano, avete visto che succede, però è un discorso proprio che la salute globale se ne frega, diciamo, degli aspetti nazionali, ecco, per capirsi, è un discorso che si occupa soprattutto di lottare contro le diseguaglianze di salute, che sono quelle che sono interrogaribili. Ecco, si occupa anche degli ultimi, questo è... si occupa di persone che sono gli homeless, che stanno crescendo, qui non ce l'abbiamo tantissimi, ma ce l'abbiamo, se andiamo soltanto qui a destra verso... li vediamo a stazione Termini, ma anche i carcerati, pensate che cos'è la salute dentro le carceri. Io sono andato a visitare alcune carceri anche nell'est europeo, lì è un... diciamo, c'è di tutto, ma anche la tossicodipendenza, ma anche la prostituzione, sono tutte persone che sono marginalizzate, che non stanno nel circuito della salute, non so come... e poi le donne, vedete, quello lì non si vede tanto bene, ma sono... sapete che ci sono delle aree, dei paesi del Sudafrica, dove il 40% delle ragazze tra i 14 e i 22 anni sono sieropositive. Perché questo? Ma non è perché ci hanno una... ma perché sono sfruttate, perché non sono empowered, cioè non hanno il potere di dire no, non so come dire. Quindi sicuramente vengono sfruttate e stuprate anche. E ecco che metà delle persone sono sieropositive. E poi ci sono gli slums. Voi sapete che un miliardo e mezzo di persone vive negli slums? E c'è un bellissimo articolo di Lanza, adesso voglio partire con un progetto sulla salute negli slums. Guardate che un miliardo e mezzo di persone negli slums sono pazzesche. Queste... però gli slums... Noi pensiamo sempre alla favela di Rio, ma no, lo slum sta pure qua, sta a Calais, sta nei nostri centri di raccolta. Quello è lo slum. E c'è una salute particolare lì, che va curata. E poi, diciamoci la verità, c'è i migranti. Ecco. E questo è quello che ha detto il nostro Francesco, diciamo, che tra l'altro... No, lo dico qui, ha fatto una cosa fantastica, che adesso farà pure un convegnone a novembre. Voi sapete che ha creato un ministero? Noi facciamo i ministeri, non so, di tutto. Lui ha fatto il Ministero per lo sviluppo umano integrale, che è un titolo bellissimo. Lui ha fatto il Ministero dei Sustainable Development Goals. Sapete che ci sono... Adesso sono stati lanciati questi obiettivi del sviluppo del prossimo millennio, dello sviluppo sostenibile. Lui ha messo insieme la salute, la giustizia. Lui c'era un ministero che si chiama Giustizia in Pax. Ha messo dentro salute, giustizia in Pax, mi ricordo... e l'ambiente. Quindi ha fatto questo ministero dello sviluppo integrale. È veramente pazzesco. Ecco, io questa qui, per esempio, la faccio sempre vedere quando sto in Etiopia, perché loro ci tengono. Però è un po' vera. Cioè, io lo faccio vedere... Innanzitutto loro ci tengono a far capire che siamo partiti tutti da lì, vedete dove stiamo lì, dove c'era quella... come si chiamava la... la nostra antenata, no? Che è stata trovata lì nella... E allora io glielo faccio vedere che siamo partiti tutti da lì. Però maestro, per spiegare che l'uomo è migrante. L'uomo... Noi siamo nati perché abbiamo migrato. Questo è una cosa che bisognerebbe anche spiegare a chi... Ecco, vedete, questi poi tra l'altro sono tutti gli scambi, questo non vi interessa, ma sono i veri scambi delle displace, dei 250 milioni di persone che sono spostate negli ultimi anni. Ma tra l'altro tra Africa e Europa è pochissimo, eh. No, ve lo dico perché... Noi pensiamo, ma tutto è Asia, è inter-Asia, inter-Africa, e anche Asia-America, America del Sud, America del Nord, eccetera. E tra l'altro è molto interessante vedere questa cosa. Io ve lo faccio vedere perché... Qualche volta ci scordiamo, perché l'ha detto pure il Papa, io non sono... Io sono cristiano, diciamo, non è che... Però, diciamo, questo Papa mi piace, come si dice, ogni tanto facciamo qualche rinuncina di alto livello. Cioè, io sono cristiano, dico, però, noi ci scordiamo, ci scordiamo, di che cosa abbiamo combinato, che cosa abbiamo combinato... Prima quella lì era l'America, l'America del Sud, che cosa abbiamo combinato nei secoli passati? E l'ha detto pure lui, dice, vi ricordate voi che cosa avete combinato? Questi sono i paesi dell'Africa dove stavano gli europei. Guardate, non ce n'è uno, eh. Questi, se li vedete, sono tutti paesi belgi, tedeschi, francesi, italiani, portoghesi, spagnoli. Noi stavamo là. Quindi adesso, diciamo, tutto quello che succede è un po' colpa nostra. Abbiamo fatto dei disastri pazzeschi. Ecco, li vedete, questi sono tutti gli imperi coloniali del passato. E quando qualcuno si lamenta, diciamo, che arriva tanta gente, giovane, tra l'altro, non si rende conto della nostra piramide. Cioè, guardate come siamo messi e come staremo nel 2050. Non c'è più ragazzino. Scusa, non so se dovete chiudere. Adesso forse alla fine del 2050 respirerete, perché c'è meno gente. Alla fine... No, perché... Siamo tutti vecchi, capito? Quindi, e guardate invece l'Africa. Ecco, vedete la piramide. Ecco, e dico, ma infatti anche i tedeschi che ci hanno... Dice, no, venite, venite, perché noi ci servono. È chiaro che... Quindi, voglio dire, c'è una cecità. Allora, il problema di tutte queste diseguaglianze, adesso lo fado veloce perché so che se no vi annoio, è che cos'è? È che la globalizzazione, diciamo, ha fatto tante cose buone, diciamola. Un po' di sviluppo economico l'ha dato, ma ha aumentato le diseguaglianze in modo terribile. Ecco, e purtroppo per portare la salute al mondo ci sono dei barriere terribili. Innanzitutto, queste diseguaglianze di... Voi sapete che l'1% della popolazione mondiale possiede il 60% delle risorse. E questo è una cosa, no, che mette un po' i brividi. E sappiamo che la povertà, non c'è dubbio che è collegata. Io mi ricordo che quando ero presidente della società mondiale dell'AIDS, una volta ero diventato... Ho fatto una cosa, sono andato... Ho deciso di portare la conferenza mondiale, 25 mila persone sono quelle, le conferenze mondiali dell'AIDS, tutt'ora, in Africa. Tutti mi hanno detto, ma tu sei pazzo? Non lo faranno mai, non vi è nessuno. Invece sono venuti, sono venuti. E poi ve lo faccio vedere. E lì ha cambiato, era l'anno 2000. Però a quel tempo io ho dovuto combattere... Un giorno mi scrive la lettera del presidente del Sudafrica, che era il successore di Mandela. Si chiama Tabo Mbeki. Mi ha detto, buongiorno dottor Vella, so che venite nel nostro paese, gli dispiace fare un saltino giù. Dico, ma volentieri, vengo. Perché lui era uno di quelli che pensava che l'AIDS fosse un'invenzione dei paesi ricchi, e pensava che l'HIV non esistesse. Sapete, non ci sono solo l'antivax, diciamo, lì c'era l'anti-HIV, l'anti... E ho dovuto combattere con lui e anche con gli negazionisti. E lui mi diceva, sai, io penso che la causa dell'AIDS sia la povertà, invece. Dico, bene. Give me five, gli avrei detto, se non fosse stato il presidente del Sudafrica. Dico, hai ragione. Ma è vero, perché la povertà è una benzina, perché depaucora il potere delle donne, quindi è vero, però c'è anche una bestiolina. Ecco, dico, è come la malaria. Dico, chiaro che nella malaria è perché... Però c'è anche una bestia. E quindi, vabbè, lì ho dovuto combattere su questo. Vedete, questa è la salute, questa è la ricchezza del mondo, diciamo, e questa è la povertà. Ecco, vedete, questi sono i paesi dove la gente vive con meno di un euro, di un dollaro al giorno. E adesso, purtroppo, i soldi per portare la salute al mondo ci sono. Però è che l'attenzione dei governi è sviata da tanti altri problemi. Il terrorismo... E quindi, certo, i G7 e i G20 sono sempre un disastro per la salute, lo sapete, che sono spesso un piccolo... E dicono, beh, sì, è importante, te lo mettono in un paragrafetto, vabbè. Ed è importante perché, vedete, adesso provo perché stiamo a parlare di... Scusa, devo tornare indietro un attimo. Ecco, stiamo parlando di bambini. Vedete che la mortalità dei bambini è esatta... C'è un P, questa curva, una correlazione dei 7-0, perché più spendi per la salute e meno muoiono i bambini. Questi sono dati di... Adesso lo so dove l'ho preso, ma insomma, sono dati che si scaricano. Cioè, c'è una correlazione pazzesca tra l'investimento e la mortalità dei bambini. E oggi, come dicevo, ci sono questi grandi obiettivi del millennio, di cui, diciamo, il più... Noi, il millennio erano quelli vecchi, questi Sustainable Development Goal. Il numero 3, tra l'altro, sono tutti correlati, perché c'è uno che è lottare contro la fame, un altro lottare contro la povertà, un altro dare più potere alle donne. Insomma, quindi, sono tutti intersecati. Ma il 3 è quello della salute. E in testa c'è lo universal health coverage, cioè la copertura sanitaria universale. Questo è l'obiettivo che dovremmo raggiungere, cioè la salute, portare salute a tutti. E questo, effettivamente, è il nostro... Io, devo dire la verità, come sono un po' appassionato di AIDS, una cosa ve la faccio vedere, perché poi siamo passati dall'AIDS alla salute. Perché da quando il virus, che nel 1920 stava in questo orango qua, è passato all'uomo, è passato in quegli anni lì, poi si è restato zitto, zitto, in piccole popolazioni locali, e poi con i viaggi, diciamo soprattutto quando il mondo si è globalizzato, si è andato in giro. Ha fatto 40 milioni di morti in pochi anni, 40 sono vivi, e sono vi detto, vedete, guardate, una cosa, questa è interessante, questa era la curva di... era la mortalità, non la vedete bene, ma c'è una barra rossa lì. Era diventata la prima causa di morte dei giovani, l'AIDS, perché colpisce i giovani. e io per fortuna ho avuto un grande privilegio di studiare i primi farmaci per l'AIDS. Poi ho avuto nel 1996, abbiamo pubblicato le prime linee guida, quelle che dicevano, guarda, secondo me si deve fare così. E come medico, mi vengono ancora i brividi un pochettino, ho avuto una soddisfazione pazzesca, che qui ancora è rosso, non si vede, forse abbiamo la luce, ma la vedete, è la curva rossa, c'è una curva, ecco, quelle sono i morti. Vedete che dal 1996, con l'arrivo dei farmaci, con l'uso dell'art della terapia, c'è una curva che, vedete, è qua adesso. Cioè, nei paesi ricchi, per fortuna, in quel momento, solo, purtroppo, dove si potevano dare questi farmaci, la mortalità si è abbattuta. È stata una delle cose più, diciamo, emozionanti della mia vita, perché io avevo pazienti che morivano quando stavo qua dentro, qui alla terza medica, venivano spesso lì, tra le infettive, la terza medica, e morivano come mosche. Spesso la notte, io non so perché muovono la notte, io, tutte le guardie che mi sono fatto qui, forse cala qualche ormone, non lo so, però, insomma, era un'epidemia. E a un certo punto, molti di questi, che si erano venduti tutto, per il certo punto, devo morire, sono rinati, e stanno qua con noi, sono gioco da tennis, stanno una spada. Vabbè, una cosa emozionante, devo dire, E tra l'altro, voi ci vedete gli studenti, vi faccio, vi dico solo un piccolo aneddoto, se me lo permettete, perché oggi è stato parlato della scuola, no? Era il 90, era il, dunque, l'AIDS è stato, diciamo, descritto, nell'81. Io, nel 79, stavo qui da Giunchi, giovane medico, no? in corsia, voi, qualcuno di voi, ci avrà questa esperienza, andate tutti dietro al professor De Curtis, allora, no, che succedeva? Noi, quando Giunchi saliva, in corsia, noi eravamo tutti terrorizzati, perché lui, ci arrabbiava sempre, cioè, questo aveva fatto, ecco, non avete capito niente, lui veniva, due volte a settimana, saliva, noi tutti dietro, sai, quei codazzi, così, noi ci avevamo ricoverato, un ragazzetto, di 21 anni, con una febbre a 44, da due mesi, non si capiva niente, c'era strane cellule, qui si pensava, c'avessimo la monocleosi, perché noi lavoravamo sulla monocleosi, io stavo, c'era Rocchi lì, il vecchio Rocchi, e io stavo in quel reparto lì, e questo non si capiva, non si capiva, che c'ha, che c'ha, la monocleosi non c'è là, arriva Giunchi, noi terrorizzati, guarda un attimo, c'erano quelle manone, c'erano delle manone grosse, io poi ho passato tutta la vita a fargli le lezioni, sapete, per l'altro veniva tutto il policlinico scusate vi do questi aneddoti perché umanizzano la situazione, arriva lui, guarda, studia, noi pensavamo ci facesse, butta queste cose, questa è una malattia nuova, perché io non l'ho mai vista, e se n'è andato, era l'AIDS, c'hava ragione, però noi abbiamo già fatto un po' di pernacchi, adesso perché lui non la riconosce, è nuova, era un caso di infezione acuta, primaria, prima del 79, infatti questo ragazzo poi è morto di AIDS, nell'85, noi abbiamo pure scritto queste cose, c'era Serra, il reparto aiuti, insomma è stata una, è una bella storia raccontare gli studenti, per far capire anche la grandezza del medico, che non c'havamo mica lì, c'havamo niente, ecco, questa ad esempio è una bambina che ho curato io in Romania, no, questa era per dare anche l'umanizzazione dei farmaci, questa è una bambina rumena, io andavo in Romania, sai con chi, con quel pazzo buono e bravo, di, che ha creato pure un reparto qui, come si chiamava, quel, quello del, televisivo, sì, con Mino D'Amato, io andavo in Romania, che lì c'è stata una piccola epidemia, lo sai, di AIDS, e andavo con lui, lo aiutavo a curarsi i ragazzini, poi lui se ne è portata pure una qui, l'ha adottata, e però, a giunto abbiamo portato i farmaci pure giù, ecco, questo in sei mesi, vedete, è la stessa bambina, è la stessa bambina, per darvi l'idea di che cosa è successo con l'AIDS, e io nell'anno, nel 2000, appunto, ho portato questa conferenza giù, e la conferenza è stata un successo, perché? Perché c'era Mandela, ecco, quella è stata la svolta, perché Mandela, che invece ci credeva l'AIDS, ha fatto un discorso alla chiusura, così importante, in cui, anche a me, mi rivengono i bili, perché io pure stavo lì, ho fatto un discorso purivo alla fine, e l'anno prossimo, l'anno successivo, è nato il Fondo Globale, e vedete, adesso abbiamo circa 20 milioni di persone in trattamento, in Sudafrica, in Africa, e vedete, quella è la curva dell'aspettativa di vita, che era calata a causa dell'AIDS, e dopo l'accesso ai farmaci è risalita, nei paesi dell'Africa, avevano perso 30 anni di aspettativi di vita, e vabbè, e quindi io, quello che, per questo parlo di AIDS, e per questo siamo attivati verso la salute globale, perché l'AIDS, di fondo, è un modello di intervento, perché ha messo insieme gli scienziari, siamo diventati tutti piccoli attivisti, cioè i ricercatori, i medici, siamo diventati tutti attivisti, abbiamo tutti lottato per l'accesso, abbiamo tutti aperto dei centri giù, e a questo punto cosa è successo? È stato fatto il Fondo Mondiale, il PEPFAR, un'altra organizzazione fatta da Bush, tra l'altro una delle poche cose che ha fatto, buona, l'ha fatta, e quindi questo discorso dell'accesso, di portare le cure che abbiamo qui, di rendere, diciamo, è una cosa, a parte anche la produzione di farmaci straordinari, che adesso sono stati, i farmaci dell'epatite sono derivati da quelli, tra l'altro, ve lo dico, e poi il discorso dei diritti umani, cioè abbiamo capito con l'AIDS che è un problema di diritti, c'è dietro la mancanza di diritti, dietro le diseguaglianze di salute, quindi è una cosa così straordinariamente multidisciplinare, che fa impressione, e vedete un'altra cosa, di cui adesso si collega con il mio lavoretto che ho all'AIFA, perché siamo riusciti a farlo? Beh, perché dopo la conferenza di Durban, vedete, questi sono i prezzi dei farmaci, che sono crollati, perché? Perché dopo Durban, dopo tutto quel casino, la World Trade Organization ha detto che se un paese ha dei problemi economici e non riesce a pagare per le cure, si saltano i brevetti, può importare i generici, e con i generici abbiamo salvato l'Africa, ma questo l'ha capito pure l'industria, l'ha capito pure l'industria, l'industria pure ha calato i prezzi, è riuscito adesso i prezzi dei farmaci, sono molto più bassi, ed è una rivoluzione, questa è una rivoluzione. Io penso che sia veramente questo discorso dell'accesso ai farmaci essenziali, che è uno di quegli aspetti che poi curo anche io in Alfa, è fondamentale, cioè vedete che i cosiddetti, il discorso dei farmaci essenziali che devono essere accessivi è fantastico. E certo, tutto questo è perché non è che ce ne stanno più tanti persone così, dicevo c'è il Papa, c'era lui, e poi l'attivismo, ecco una cosa molto importante è che l'AIDS ha scoperchiato un'altra cosa, ha fatto diventare protagonisti di questa battaglia i pazienti stessi, cioè questa è una cosa che non c'è, adesso tutte le associazioni di tutte le malattie, ci sono i pazienti, giustamente, il cancro, ma prima non c'erano. Voi ricordatevi i film, anche quelli della lobby, la chiamavano la lobby gay, il Philadelphia, eccetera, beh, sono loro che ci hanno spinto, sono loro che ci hanno pressato, a noi, ci hanno anche controllato, dicono guarda che stai a fare una cosa che non va bene, hanno controllato i conflitti di interessi, hanno bastonato le aziende farmaceutiche, cioè i pazienti sono stati i protagonisti, questi tanti morti, questi sono il Kilt, ogni anno si ricordano tutti i morti di AIDS, e insomma, adesso sto facendo infatti, questo, l'Hansett Commission, che è uno di questi lavori, in cui proprio riprendiamo questo discorso dell'AIDS per capire come alcune, alcune cose possono essere prese dalla storia dell'AIDS, di successo, ancora non è finita, abbiamo pure dei progetti adesso per curarlo, definitivamente, perché sapete che non si cura, uno si campa, ma non è guarito dal virus, comunque, che cosa di questa grandissima storia si può prendere e trasportare per lottare contro altre forme di diseguaglianza di salute. Ecco, mi fermo qua, se no vi li impiacillisco, grazie. 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 Grazie.